trazione. Olè, stiamo andando in direzione Alberola, ho dietro un Fireblade che vorrei far passare per farmi tirare un po'. Vai! Niente, altro che tirare tre curve, ad occhio, è un po' bravo, e in più mi sa che conosce la strada, me lo sono fumato. Ecco di qua ragazzi! See you! Woo! Audio La 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 la, la 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 andiamo un pochino avanti 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 il navigatore dice che è staccato con il velox un pochino avanti un pochino avanti un pochino avanti qua abbiamo Fabrizio avanti che col V-Strom prende degli angoli di piega tipo Superbike questa cicciona un pochino avanti abbiamo Gandalf alle prese con una Volkswagen ma purtroppo la moto non ha neanche 200 cavalli sarà un problema invece non è stato bravo niente là questa è una Passat vendicare la pelle prende un pochino avanti prende le curve molto strette e poi piega come una madonna guarda qua prossima moto la prossima moto gli facciamo comprare la Super Sportiva la prossima 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 ci vediamo dietro a Gandalf con la tuono che vediamo come se la cava quando allunga praticamente salta sopra alla moto che ha davanti appena tocca l'acceleratore porca troia grazie a tutti Salvatore non si ferma Gandalf Salvatore gira poco con noi la cosa del secondo non la conosce